Ciao a tutti, sono Yashal e oggi andiamo a parlare delle devozioni. Avevo già fatto un video in merito a come costruire una build usando sempre gli intools. Tuttavia ho intenzione di parlare in questo video delle devozioni, nello specifico, e nei prossimi di tutte le classi evidenziandone le abilità più importanti. Quindi questo affinché possa aiutare sia persone che già sono a conoscenza comunque del funzionamento di Gindon, sia persone che si approcciano al gioco. Per quanto riguarda le devozioni, inizialmente i punti che prenderemo saranno da spandere in questa ruota. Questi punti qui che troviamo saranno affiancati da queste affinità. Le varie affinità le possiamo vedere se facciamo uno zoom indietro, e sarebbero questa quella, diciamo, rosa lilla, ed è quella del caos. Qui invece troviamo quella gialla, che rappresenta in questo caso quella dell'ordine. Poi, se non erro, qui abbiamo quella viola. Qui quella di Eldrick, quella verde, e qui quella blu. Questa distinzione in realtà ve l'ho fatta anche nell'altro video, sottolineando più che altro il tipo di danno che andate a trovare in quei punti, ma è una cosa errata che ho fatto, l'ho fatto per semplificare molto la cosa. Perché in realtà non è del tutto così, nel senso non è che qui, soltanto perché è verde e della costituzione di Eldrick, troveremo soltanto il tipo di danno, veleno, no, non è così. Però possiamo fare una semplificazione sulla base di ciò che andremo a trovare e di conseguenza di ciò che vorremmo raggiungere, perché ovviamente più le costellazioni sono difficili da raggiungere, più dovremo fare un programma per poter raggiungere poi quelle costellazioni. Io consiglio sempre, in un primo momento, di mettere i punti al centro e di spenderli tutti e cinque. Questo perché ci permette di avere comunque accesso a tutte quelle di base, quindi di costruirci fondamentalmente la nostra build pian piano. I punti di devozione inizialmente saranno molto facili da poter ottenere al crucibolo, se si ha il DLC. Questo perché costano molto poco se comprati dal crucibolo. Il costo aumenta sulla base di quanti punti di devozione già abbiamo. Pente invece, cercando gli altari a normale sbarra veterano, ci sarà un po' più difficile perché sono altari numerati, in quanto poi soltanto in Elite e infine in Ultimate potremo trovare tutti gli altari presenti nel gioco. Quindi io consiglio comunque di andare a farli nel crucibolo inizialmente e poi normalmente nel gioco. Per quanto riguarda la costruzione della build, anche se inizialmente non si ha una chiara idea di ciò che si vuole fare, ad esempio, se io vedo che questa costellazione mi piace perché mi dà questa determinata abilità, posso anche metterli punti qua e tranquillamente rispeccare dopo quando avrò i materiali e le possibilità o mi sarò fatta, quindi è più chiara. Su questo grindone è molto aperto e ti lascia molte possibilità. Le costellazioni che danno un'abilità sono in tutto 50, quindi non tutte completandole ci daranno un'abilità finale e questa abilità va associata ad una skill. Se io mi faccio un personaggio che predilige attacchi a distanza e voglio di conseguenza costruire una build basata su quello, è normale che non ando a prendere una costellazione che mi fornisce un bonus, che ne so, alle asce, alle spade e così via. Cercherò di prendere qualcosa che mi fornisca un bonus per le attacchi a distanza. Oppure, se si hanno i pet, si cercherà di prendere quelle costellazioni che forniscono un bonus ai pet, che sono comunque tante. Una cosa che io consiglio fondamentalmente è di leggersi bene punto per punto quello che fanno tutte le stelle, insomma. Perché non è detto che una cosa ci possa essere utile se noi, ad esempio, non abbiamo una build per pet e vediamo che c'è ciò che protegge o dà un bonus ai pet ovviamente questa cosa ci sarà inutile. Potrebbe esserci utile per raggiungere una costellazione più lontana ma secondo me sono comunque punti buttati. Quindi, ad esempio, se io voglio costruirmi una build che deve andare a prendere i talenti di più sopra farò, procederò così. Innanzitutto, come ho detto, cercherò di vedere punto per punto ogni stella cosa fa. nel momento in cui mi sarò resa conto che magari ci sono delle costellazioni che sono migliori di altre potrò anche liberare questi punti perché le costellazioni, una volta presa, si possono raggiungere da sole. Ad esempio, io lo stacco, dicevo che le costellazioni si raggono da sole e di conseguenza, andando poi più avanti nel selezionare le varie costellazioni potremmo vedere che ci sono quelle che si raggono effettivamente da sole. Nel momento in cui avremo una solita base di costellazioni quindi avremo preso un tot di punti potremmo anche tornare indietro e rispeccare togliendo questi punti centrali perché fondamentalmente se noi ci passiamo sopra adesso con il mouse possiamo vedere che ci danno un bonus ma che richiedono anche una determinata affinità quindi ad esempio se io sto andando verso questa parte qui gialla e poi mi voglio spostare sulla parte viola avrò bisogno ovviamente di altre affinità e di altre tipologie di punti questo è soltanto una spiegazione su come fondamentalmente funzionano in genere le affinità per andare poi più nello specifico le devozioni come ho detto permettono sì un bonus ottenibile grazie alla selezione di un'abilità ad esempio noi adesso ho selezionato questa costellazione qui e questa cosa siccome non ho selezionato nessuna classe prima mi dice non skill ma la possiamo mettere su un'abilità alcune vanno sulle abilità attive altre vanno sulle abilità passiva una cosa che consiglio sempre è quello di prendersi almeno una delle costellazioni di cura che sarebbero la driada il ghoul il pipistrello l'ho trovato sempre più inutile ma comunque potete anche prendere il pipistrello poi c'è il gigante qua sotto e c'è anche l'albero che ci consente di avere la generazione dell'energia insomma della salute e queste skill possono essere attivate sulla base di determinati criteri magari quando diciamo la nostra salute è sotto il 30% si attiva una rigenerazione della salute e ovviamente questa cosa è un cooldown e così via ripeto ogni costellazione adesso non starò a parlare di ogni singola costellazione quindi fondamentalmente ogni build dovrebbe avere una di queste costellazioni di cura anzi almeno una di queste costellazioni di cura e ogni build deve essere costruita sulla base del tipo di danno che facciamo sulla base del fatto che abbiamo o non abbiamo pet e sulla base di ciò che vorremmo raggiungere poi andando avanti ad esempio se io faccio elemental damage qualsiasi tipo di elemental damage non non mi sto magari a focalizzare sul fatto che una cosa mi faccia danno da ghiaccio o danno elettrico cerco piuttosto di raggiungere quelle cose che mi permettono di fare più danno possibile che sia fuoco elettrico o di ghiaccio non mi interessa raggiungere quelle più vicine piuttosto cerco di andare a prendere anche quelle più lontane però se noi abbiamo una build che vuole fare solo danno da fuoco solo danno elettrico solo danno di ghiaccio in quel caso si cercherò di prendere anche le cose più vicine che mi permettono di arrivare poi a prendere quelle più lontane e che di conseguenza potrebbero completare la mia build questa cosa non è facile da capire per molti perché molti poi si vengono a chiedere come faccio una volta costruito un sistema di di costellazioni a rispeccare o a prendere i punti che non mi servono per poi spenderli altrove come dicevo prima ci sono delle varie e proprie costellazioni che si raggono da sola nel senso che basta avere 8 punti e di conseguenza quella costellazione si regge da sola non ha bisogno poi di di altri ulteriori punti per potersi reggere poi di conseguenza se noi vogliamo speccare possiamo farlo in qualsiasi momento e togliere i punti inutili andando anche a ritroso non per forza togliere quelli che abbiamo messo per ultimi andando anche a ritroso e togliere appunto i punti più inutili per la nostra build e possiamo farlo comunque in qualsiasi momento quindi non è un problema questo è una cosa molto funzionale che ci permette di sfruttare a meglio i 55 punti che abbiamo a disposizione come dicevo prima questi punti li possiamo trovare tramite gli altari ma a vetera ne hanno messi soltanto 48 di altari e non tutti sono facili da raggiungere quindi secondo me è più facile farli con il crucibolo inizialmente poi arriverà un punto in cui costerà troppo farli con il crucibolo con i tributi da tirare al crucibolo e quindi di conseguenza sarà meglio farli in game ma una build completa ovviamente non è che si completa nel momento in cui raggiungiamo i 55 punti no dobbiamo comunque considerare anche tutti gli altri aspetti quelli relativi alle skill quelli relativi all'equip e così via per questo ho intenzione di fare poi un video a parte e niente spero che comunque questo video vi possa essere stato utile aggiungo solo un'ultima cosa ovvero che personalmente sono una persona che che cerca sempre di nel momento in cui costruisce una build cerca sempre di raggiungere le costellazioni migliori mettiamola così tuttavia spesso questo magari mi fa perdere l'armor rating oppure l'abilità offensiva e così via quindi io in realtà consiglio in questo caso di selezionare anche quelle costellazioni che magari apparentemente ci sembrano inutili o comunque punti sprecati come può essere questa costellazione che io uso quasi sempre nelle mie build che è molto utile perché ti fornisce una buona base difensiva in realtà ho riscoperto anche questa del ragno a livello di utilità soprattutto per raggiungere magari quel tipo di come posso dire quel tipo di punteggio a livello di attributi richiesto per equipaggiare determinate armi quindi in ogni caso io faccio anche attenzione a queste cose lo consiglio anche a voi da me è tutto e niente ci rivediamo ad un prossimo video grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.